Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori, tenetevi forte perché questo video è davvero esplosivo, in questo video parleremo di tre cose, uno la lead avuta da Albano, due parleremo delle condizioni di salute del leone di Cellino San Marco e tre parleremo di un clamoroso episodio dell'infanzia di Albano e prima di iniziare vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, non dimenticate di attivare la campanella in tal caso le notifiche arriveranno direttamente sul vostro cellulare come ci ricorda un vecchio monito la salute e la prima cosa iniziamo col dire che Albano Carrisi sta meglio, appare rinfrancato e appare essersi ripreso pienamente dopo le recenti vicissitudini di salute peraltro abbondantemente narrate nei video di Marco Liguori, punto numero due, la lite, Albano è ritornato in televisione, lo ha fatto a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, Albano ha ripercorso i suoi esordi, ha parlato dei suoi genitori, ha parlato della sua vita straordinaria, eppure cari amici di Youtube, amici che mi seguite dalla pagina facebook Albano Carrisi fan club come un fulmine a ciel sereno, Albano ha avuto un diverbio in studio con Romina Carrisi Junior che ricordiamo, ospite fissa, nel cast di Serena Bortone al pari di Memo Remigi, Albano si è definito un padre psicologo al che c'è stata la frecciatina, diciamo Albano inaspettata di Romina Carrisi, Romina ha dichiarato uno psicologo ti ascolta, non impartisce ordini, amici di Youtube scrivete nei commenti voi cosa ne pensate di questo diverbio, il diverbio che non ti aspetti e l'intervista per la cronaca è proseguita, ma tra Albano e Romina Carrisi Junior c'è stato un evidente imbarazzo, i due non si sono parlati per tutto il resto dell'intervista. Punto numero 3, Albano ha parlato di un goliardico episodio di quando era appena un ragazzo, Albano cantava nei piano bar, cantava nei ristoranti milanesi e davvero in maniera inaspettata ha dichiarato che una volta udendo dei discorsi che non gli piacquero, spaccò addirittura un intero ristorante, quindi un condensato di emozioni, di aneddoti e purtroppo caratterizzati anche da un piccolo fuoriprogramma il diverbio con Romina Carrisi Junior che vi chiedo di commentare. Qui sotto ovviamente non potevamo non parlare di Ilenia Carrisi, argomento su cui Albano ha fortemente glissato, Serena Bortone ha chiesto di Ilenia, Albano ha risposto, meno ne parlo e meno mi faccio male, quindi chiudiamola così, amici di Youtube come promesso andiamo a tradurre questo video anche in spagnolo. Albano superò problemas de salud, però tuvo una pelea con Sujija, Romina Carrisi, grazie a Sattodos. Amici di Youtube grazie per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivete al canale, condividete questo video, seguitemi sul secondo canale di Marco Liguori se vi piacciono le notizie di cronaca, non dimenticate di attivare la campanella, seguitemi su Facebook, pagina Facebook. Marco Liguori News e Albano Carrisi Fan Club, se volete una vera e propria indigestione, dei video di Marco Liguori, seguite la playlist Maratona Video. Marco Liguori, ciao a tutti!